La libertà è probabilmente il bene più importante nella vita che esista. Purtroppo, molti esseri umani nel mondo la perdono a causa di stati autoritari o conflitti inspiegabili. Ma non solo gli esseri umani hanno il diritto di vivere liberamente, questo diritto spetta anche agli animali, che hanno il diritto a una custodia adeguata al loro benessere. Tuttavia, questo diritto è stato negato a un cavallo, protagonista della storia di oggi. Il veterinario rumeno, Rose, stava esplorando una riserva naturale nel suo paese quando ha fatto una terribile scoperta. Non poteva credere a ciò che vedeva. In alcune parti della Romania, i cavalli vengono trattati in modo particolarmente crudele per impedire loro di scappare. Le loro zampe anteriori e posteriori vengono legate insieme con catene, rendendo loro quasi impossibile muoversi e fuggire. Lo stesso era successo a un cavallo in una zona della Romania, quando il veterinario insieme a un piccolo gruppo di persone lo ha trovato. Il povero animale cercava disperatamente di liberarsi dalle catene, ma senza successo. Il cavallo era esausto e le catene strette attorno alle sue caviglie avevano già causato ferite profonde. Doveva provare un dolore incredibile. Vorrei che la persona responsabile di questo trattamento crudele fosse costretta a vagare per la natura selvaggia, incatenata al piede. Se condividi questa visione, lascia un pollice in su al video e iscriviti al canale. Era chiaro che il veterinario doveva agire rapidamente per evitare ulteriori sofferenze al cavallo. Finalmente, avrebbe potuto vagare liberamente nella vasta riserva naturale. Ma il salvataggio si rivelò più difficile di quanto sembrasse. Innanzitutto, il veterinario doveva avvicinarsi al cavallo, che era estremamente spaventato. Non c'è da meravigliarsi, considerando il maltrattamento subito dal povero stallone da parte del suo proprietario. Se fossi il cavallo, non mi fiderei più degli esseri umani. Il veterinario non ebbe altra scelta che sparare al cavallo con un tranquillante da una certa distanza. Successivamente, lui e i suoi aiutanti si avvicinarono all'animale. Il veterinario prese una pinza e cominciò delicatamente a rompere le catene, rimuovendole una dopo l'altra. Emergono le ferite di cui abbiamo parlato in precedenza, che causavano grande tormento all'animale. Quando finalmente il cavallo fu liberato dalle catene, le persone lo aiutarono a rimettersi in piedi. Era ancora un po' instabile, ma visibilmente sollevato. Finalmente poteva galoppare in libertà. Tuttavia, il cavallo non si allontanò subito. Prima di farlo, si avvicinò al veterinario, annusandolo e delicatamente poggiando il muso sulla sua testa, come per dire «grazie per l'aiuto». Poi, godette della libertà ritrovata con la sua famiglia. Senza l'intervento del veterinario, il cavallo avrebbe continuato a soffrire a lungo e sarebbe probabilmente morto lentamente e dolorosamente. Per me, quell'uomo è un vero eroe. Le storie di animali in difficoltà che ho appena condiviso sono solo una piccola finestra sulle sfide e le sofferenze che molti animali affrontano ogni giorno. È nostro dovere, come amanti degli animali, fare tutto ciò che possiamo per proteggere e difendere i nostri compagni più deboli. Ogni gesto di compassione e aiuto fa la differenza nella vita di un animale. Ricordiamoci sempre che gli animali non sono meri oggetti o risorse, ma esseri senzienti con bisogni e diritti propri. Meritano rispetto, cura e amore. Dobbiamo essere le loro voci e combattere per garantire loro una vita dignitosa e priva di sofferenza. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.